Buon pomeriggio amici sportivi e benvenuti a San Cadaldese Polisportiva Sarnese, 22esimo giornato di campionato interregionale Serie D, girone in. Recupera la palla alla San Cadaldese, attenzione, adesso alla distanza di Calafiore, il pallone che colpisce il palo e poi Sorrentino in due tempi, blocca la palla. Rimessa laterale per la San Cadaldese, Gonzales gira all'indietro per il sinistro alla distanza e la parata di Sorrentino. Ci ha provato Greco, calcio di punizione per la Sarnese, batte Guidelli, è uno schema, attenzione per Calemme col destro dalla distanza, respinto e poi attenzione Italia, che occasione per i Granata. a 6, gira all'angello, poi c'è Miciche, attenzione questa palla dentro per Calemme, Calemme il destro a giro! Che parata! Salva Cosimano in calcio d'angolo. Attenzione, scontro, attenzione non c'è uno scontro tra Calemme e Di Marco, attenzione, rosso per Calemme, espulso Gigi Calemme, Sarnese in 10. Attenzione a questa palla per Gonzales. Cariotto, saltato d'avversario, attenzione, messo il pallone dietro e poi arriva il destro della rete! La rete della San Cadaldese che si porta in vantaggio con Calafiore. Segno il trequartista, San Cadaldese 1, Sarnese e zero. Si riparte con la seconda frazione di gioco col primo pallone, toccato da Talia che gira all'angello. Tiene palla poi la Sarnese con Talia che gira all'indietro, per Di Angelis che la mette in mezzo. E lo sa che arriva Guidelli col destro! E sfiora la traversa Guidelli, che occasione per i Granata. Lui parte la San Cadaldese, incontro piede con Gonzales, 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 dentro poi attenzione il pallone per Cariotto. Cariotto e la parata di Sorrentino che salva tutto. Che occasione per i Verdi Amaranto. Mazzei. Parte progressione Mazzèi. Attenzione. E poi bruttissimo fallo di Mazzei, attenzione. Ed espulsione per Mazzei. Che fallo. Fallo su Di Marco. Ed arriva il rosso Sarnese addirittura in nove uomini. Sarnese Calcio d'angolo per la San Cadaldese. Attenzione. Il colpo di testa ed arriva la rete del 2 a 0 con Gonzales. Raddoppio San Cadaldese. Calcio d'angolo per la Sarnese sul punto di battuto Guidelli. Attenzione Guidelli in mezzo. Attenzione. Ammaturo. Rete. C'è il 2 a 1. Accorcia le distanze della Sarnese con Ammaturo. San Cadaldese 2. Sarnese 1. Se ne ha questo lancio lungo. E finisce qui. Finisce qui. San Cadaldese 2. Polisportiva Sarnese 1. E da Pierpaolo Milone è tutto. Sarnese 1. E da Pierpaolo Milone è tutto.